Domani, martedì, si svolgerà a partire dalle 17 un incontro dal tema Ricominciare a lavorare nel campo sociale. L'evento si terrà in corso Umberto nella libreria Paoline. L'incontro è organizzato dall'Associazione Culturale Alcide De Gasperi e dalla libreria Paoline di Caltanissetta. Saranno presenti tra gli altri Piero Cavaleri, Rosa Calì, Rocco Gumina e Davide Capodici. Durante il convegno verrà presentato il volume De Gasperi scrive a cura di Maria Romana e Paola De Gasperi.